E infine il CEO di Auxilia Finance, Samuele Lupidi. Ciao Samuele. Samuele, adesso entri in gioco con tu. Quindi non soltanto reti immobiliari ma anche reti di consulenza del credito. Una rete come la vostra, abituata a parlare di tassi, di spread, di perizie, quale sfide deve affrontare nel trasferire il valore della consulenza al cliente? Sì, se non siamo capaci di trasferire questo valore siamo morti. Perché nell'era in cui viviamo di comparatori online, di bombardamento di pubblicità, di tassi all'1% o anche meno, è chiaro che se noi non sapessimo sapessimo spiegare al cliente che cosa facciamo, è chiaro che non avremmo ragione di esistere. Questo ci spinge a fare sempre meglio. La nostra è un'azienda che investe molto in tecnologia. Tra l'altro abbiamo presentato proprio un modello di operatività all'evento FIAP 4.0 che sostanzialmente in qualche minuto fa la prequalifica al cliente e in due, massimo quattro giorni, siamo in grado di dare la delibera totalmente paperless e con consulenza online. Nonostante questo, quindi con molta spinta sull'innovazione tecnologica, quindi sostanzialmente il cliente potrebbe non uscire mai dall'agenzia immobiliare perché facciamo anche l'atto unilaterale in sede dell'agente immobiliare. Nonostante questa forte spinta sull'innovazione tecnologica che abbiamo fatto, però un'altra importante voce di investimento nella nostra azienda è la formazione. Proprio perché la consulenza resta il cuore pulsante della nostra azienda. Non si può non far percepire al cliente che magari investendo di tasca qualche migliaia di euro in più si cambia il loan to value del mutuo richiesto e si possono risparmiare tanti soldi. Oppure come nel caso della pubblicità di una nota banca italiana, 1% di tasso. Ma sì, fisso. Però a 10 anni nessuno ti spiega che se chiedi qualche migliaia di euro in più ti cambia il loan to value e dall'1 diventa 2. E come lo spiegate questo al cliente signale? Lo spieghiamo facendo una consulenza, quindi facendo un'analisi dei suoi bisogni, la sua capacità di risparmio, quindi valutando la sua capacità di indebitamento possiamo farlo, ripeto, sia di persona che online, avendo gli strumenti e dando quindi la possibilità all'agente immobiliare, perché noi vogliamo essere al fianco degli agenti immobiliari, di evitare lungaggini nella ricerca dell'immobile che poi non potrà mai essere finanziato oppure di evitare i compromessi condizionati, i preliminari condizionati a una durata indefinita fino a quando il cliente otterrà il mutuo. Quindi in tempi brevissimi possiamo dire se può o non può acquistare quell'immobile. Grazie, Samuele. Grazie. Grazie.